Non è che mi posso opporre, anche perché è lei l'unica erede, io sono stato adottato da Carlo perché appunto Lucrezia disse di no e quindi il giudice disse di sia Marina come moglie, che si potesse firmare come moglie per dare il consenso a Carlo ad adottarmi. Quindi invece appunto dicevi prima, se avessi rincesso i soldi all'enalotto li comprerei tutti? L'avrei subito comprato io e per poi un domani esporli ma come si deve, non esporli per poi svenderli, io non l'avrei mai venduti perché appunto lei li aveva tenuti da parte per 40 anni, negli anni, pezzo dopo pezzo. Perché come ho detto Marina è stata una donna molto trasgressiva ma nella sfera familiare era molto tradizionale.